Qual è stato il tuo momento più bello della stagione a Perugia? Forse l'emozione più grande è stata quando in gara 2 contro Piacenza ho fatto l'ultimo muro, poi mi sono girato ho visto 6.000 persone esultanti, quello è stato bello. Anche la prestazione che hai fatto nell'ultima partita è stata da ricordare sicuramente. Io non vorrei tanto ricordare quella partita perché insomma non è andata benissimo, però insomma abbiamo dato il massimo, penso si è visto anche da fuori, quella era la cosa importante, poi abbiamo perso però l'importante era dare il massimo e provarci fino alla fine. E il tuo proposito principale per il futuro, visto che non è stato ufficializzato nulla ancora? Io qua mi sono saluto benissimo, mi sono concentrati, ma specialmente in questo playoff con il tifo che ci ha dato una marcia in più, quindi io qua sto benissimo, ma qua chiaramente non dipende solo da me, ma da tutta la barata. Noi ci svegliamo, e in bocca al lupo, e visto che non va in vacanza ma va in nazionale, in bocca al lupo anche per quello. Crepi, grazie a voi. Ciao.